Ricominciare a vincere partendo da domenica prossima in Campania contro la Frattese squadra che accusa tre punti di ritardo dai Gelesi è l'obiettivo dei ragazzi allenati dal tecnico Pietro Infantino. Dopo il pari senza gol al Presti contro la Plamese non si devono più lasciare punti per strada. Davanti al pubblico amico nelle ultime riuscite i Biancazzurri hanno ottenuto solo un punto, pochissimo, è in trasferta invece che il club di Venezia riesce ad esprimere il meglio di sé. Una metamorfosi vera e propria. Ma cosa accade? L'abbiamo chiesto a Fabio Campanaro. Sono le squadre che vengono qui ringhiuse per cercare di portarsi quel benedetto punto e fino adesso ci stanno riuscendo, alcuni addirittura raccogliendo più di quando meritavano. Spero che siano solamente degli episodi isolati, che già dalla prossima in casa possiamo ritornare a vincere davanti al nostro pubblico, ma prima c'è una partita abbastanza importante e delicata, quella di domenica a Fratta, dove dobbiamo rimanere concentrati per cercare di portare un buon risultato a casa. Finora squadra in trasferta imbattuta. Sì, la qualità dei nostri giocatori ci permette di poter sfruttare gli spazi che ci lasciano le squadre quando andiamo in trasferta. Speriamo domenica di poter continuare questo trend. Cosa ti mette dalla Frattese? È una buona squadra, già l'anno scorso ha fatto un gran campionato, si è giocata la promozione fino alle ultime giornate. La squadra non è stata cambiata in grosso modo, quindi è una combagine che si conosce, gioca bene. Dobbiamo dare il massimo di noi stessi per cercare di portare un buon risultato a casa. Quando si parla di un buon risultato si parla di vittoria. Certo, noi dobbiamo, per la squadra, per il blasone che è il gelacalcio, dobbiamo cercare, almeno dobbiamo giocare per i tre punti. Poi il risultato è quello che viene e ci prendiamo. Speriamo sempre che sia il massimo. Questa squadra, secondo te, conoscendo proprio i giocatori, dove può arrivare? Noi quest'anno ci siamo posti degli obiettivi ben precisi. Giochiamo partita dopo partita e diciamo che fino a questo momento il bilancio è più che positivo. Speriamo sempre di migliorarci perché non possiamo mai accontentarci o rilassarci. Il campionato è lungo e credo che possiamo prenderci delle belle soddisfazioni.